Anche il presidente della provincia Arturo Lincio chiede l'esenzione per il nostro territorio dalla zona rossa e di stamattina la lettera inviata al governatore Cirio al quale chiede di portare le ragioni del VCO al ministro della salute come da facoltà data nel DPCM. Il verbano Cusiossola presenta ad oggi parametri di contagio che lo collocano in una fascia di basso rischio, rimarca Lincio, da qui la richiesta di esenzione con specifico riferimento sia alle limitazioni di movimento sia all'obbligo di chiusura particolarmente esteso delle attività commerciali già duramente provate. Intanto la risposta del Partito Democratico alle dichiarazioni di ieri del consigliere per Ioni sulle zone rosse. Su questi temi non si può affidare la gestione di un fenomeno così delicato a sparate ad uso social. Servono responsabilità e conoscenza della situazione, sia sanitaria che legislativa, scrivono l'onorevole Enrico Borghi e la segretaria provinciale Alice De Ambrogi. Parlano di decisioni non frutto di capricci del governo, ma basate su 21 criteri elaborati e forniti dalle regioni, il cui incrocio stabilisce le fasce geografiche del contagio. Ai presidenti delle regioni spiegano spetta il monitoraggio degli indicatori. Aggiungono se la regione Piemonte riteneva plausibile la determinazione della zona rossa su base provinciale, avrebbe dovuto chiedere di inserire questo aspetto nel DPCM e impegnarsi in tal caso a fornire il tracciamento di tutti i 21 parametri su scala provinciale. Questo non è stato fatto, concludono. Oggi la dichiarazione del governatore Cirio, che ha parlato di decisione presa in base a dati vecchi di dieci giorni, che non hanno tenuto in considerazione le ultime misure già adottate dal Piemonte su scuola, trasporto pubblico e centri commerciali. Secondo Cirio, si rischia di porre in una situazione più critica regioni che sono in fase di miglioramento e non tenere invece conto del peggioramento di altre realtà del nostro paese. Gli fa eco Preioni, che dice l'autocrate Conte, ci condanna al lockdown sulla base di dati vecchi, ma salva il suo amico De Luca, il riferimento è la campagna. Per lui l'autonomia è solo uno scaricabarile sulle regioni.